Come vedete c'è la pratica di fondazione dei nuovi spogliatoi che serviranno al campo di tamburello di Cavriana. C'erano dei problemi di adeguamento Covid e di adeguamento anche di sistemazione interna per renderlo più adeguato alle esigenze di una squadra importante che abbiamo di tamburello. Il progetto prevede sia la realizzazione di questi spogliatoi che due campi polivalenti realizzati al di là della strada del Viale della Pieve. La storia di questo centro ha radici un po' nel passato perché questa è un'iniziativa importantissima, la voglio ricordare, fatta dall'amministrazione del sindaco Bruno Righetti, che è stato lui avere questa idea, questa bellissima idea, questa bellissima iniziativa ed è stato lui a cercare i contributi, i fondi proprio per poter ampliare il nostro centro sportivo. Nasce proprio dall'esigenza di un ampliamento, intanto sfruttare questa che è tutta una proprietà comunale, questa che vediamo da molti anni. Anche lì devo ringraziare Bruno Righetti e la sua amministrazione, che è stato quello che è riuscito a ottenere questa proprietà con uno scambio con un proprietario precedente. La necessità di ampliare proprio il nostro centro che si trova qui alla nostra destra, anche perché abbiamo squadre di calcio, ma soprattutto l'associazione del tamburello, che hanno un successo molto importante, è molto conosciuto e tanto soprattutto stanno facendo per i nostri giovani e per i giovanissimi. Quindi era giusto dare alla comunità di Cavriana la fruibilità di questi spazi. L'intervento globale arriverà quasi sui 500 mila euro. Adesso ne stiamo facendo una parte, una parte molto importante, perché poi faremo i dettagli tecnici, ma partiremo con gli spogliatoi per il tamburello, di modo che possono avere i loro servizi, i loro spogliatoi. E poi dobbiamo aspettarci, sono due in realtà i campi che sono attaccati uno con l'altro, quindi sono un campo da tennis, un campo di calcetto a 5, comunque si potrà fare anche il basket, ma perché attaccati? Perché siccome non hanno una divisoria questi campi, potrà essere utilizzato anche come un campo unico per l'allenamento per le squadre di tamburello, quindi daremo una possibilità di avere un campo in più per l'allenamento. Sarà un po' polivalente, diciamola così. Sarà usufruibile anche tutto il resto dell'area con dei percorsi pedonali, per questo è una zona dove la sera in tanti fanno la corsettina intorno a queste strade, perché è una zona molto bella. Poter dare anche uno spazio con delle vie e delle piantumazioni adatte sarà per noi molto importante.